L'incidenza dell'ipotiroidismo congenito è completamente cambiata da quando è stato introdotto lo screening per l'ipotiroidismo, in modo particolare negli ultimi 10 anni si è abbassato il cut off per il richiamo dei bambini con ipotiroidismo congenito e questo ha sicuramente aumentato l'incidenza da 1 a 3.000 che era in precedenza addirittura a 1 a 2.000 o in alcune regioni fino a 1 a 1.500. È cambiato anche il tipo di ipotiroidismo nel senso che la disgenesia, cioè la mancata formazione in modo adeguato della tiroide è rimasta più o meno invariata ma il 60% sono tutte forme di ghiandola in sede quindi con delle zoologie estremamente variabili.